Corposo turnover, ma diversi giocatori che scenderanno in campo all'Adriatico contro l'Avis Pesaro sono di fatto dei titolari. Colombo deve rinunciare soltanto a Crescenzi e a Vergani. L'ex Inter sarà pronto per la sfida di potenza in programma sabato alle ore 17.30. Primo turno di Coppa Italia, gara secca, ore 18, arbitro Mirabella della sezione di Napoli. In caso di parità al novantesimo supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passa affronterà il secondo turno, sempre in gara secca, la vincente della sfida, Gubbio Recanatese. C'è parecchia curiosità intorno ad Aloy e Crecco. Per entrambi è previsto uno scampolo di gara, altresì al debutto Sommariva e De Marino. Nel primo tempo, certo, l'utilizzo del seguente 11. Sommariva tre pali in difesa, Lex Sacani, Brosco, Ingrosso e De Marino. A centrocampo, Giabuà, Palmiero e Germinario, davanti i Colai e delle Monache, a supporto di Tupta, riferimento centrale. Vispesaro, priva di Baccaiocò, Cusumano e Di Paola. Il tecnico David Sasserini, che pagò con l'esonero il K.O. di dieci mesi fa, proprio all'Adriatico, quando però era alla guida della pistoiese, reti nelle immagini di Giambo e Rauti, presenterà una formazione sperimentale, addirittura 10 under, alcuni dei quali all'esordio assoluto su 11. Questa è la probabile formazione. Sistema di gioco 4-3-3. Campani tre pali, in difesa a Cavalli, Gazzolini, Capitan, Gavazzi e Borsoi. A centrocampo, a Ocelli, Nina e Astrologo. In attacco, Garau, Sosa, figlio del Pampa, ex attaccante di Udinese e Napoli, e Ngom, senegalese, classe 2002. Finora in trasferta, gare di campionato, Vis imbattuta, una vittoria e tre pareggi. Il tecnico, David Sasserini. Giocheranno i giocatori che sinora non hanno ancora utilizzato, per gran parte. Per gran parte utilizzerò altri giocatori che hanno giocato, magari facendoli dividere la partita. E poi è una partita che va onorata e va giocata. Andiamo là per cercare di fare la nostra partita, ribadisco, di vedere qualche ragazzo, visto che sinora è stati fuori, il loro valore.